9 milioni di euro per la bonifica dell'ex Acna. La regione annuncia che sta partendo una grande operazione di risanamento e rigenerazione ambientale in tutta l'Emilia-Romagna, grazie a un totale di 27 milioni di euro assegnati dal PNRR che consentiranno di bonificare i terreni, ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'economia circolare. A Piacenza, l'intervento di bonifica interessa l'area industriale degradata situata all'interno del perimetro delle mura storiche cittadine. Nel 1924 la Società Industria Applicazioni Chimiche vi aveva costruito un suo stabilimento, la cui attività principale era rappresentata dalla produzione di coloranti organici. L'impianto negli anni 50 entra a far parte del gruppo Lane Rossi e nel 1965 viene rilevato dall'Acna che fino al 1983, chiusura ultima dell'attività produttiva del sito, effettuava sintesi organiche per la produzione di coloranti per l'industria tessile. I lavori prevedono la rimozione di rifiuti interrati, il risanamento del suolo e della falda nelle aree non conformi.